Inaugurata la rotatoria di via Fedele Calvosa nel capoluogo. Proseguono infatti i lavori di arredo urbano delle rotatorie realizzate sul tratto urbano della Montilepini a seguito dell'aggiudicazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria ad alcune società private a titolo di sponsorizzazione in relazione al bando promosso dall'assessorato all'ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri. Dopo la fase delle perforazioni, volta all'approvvigionamento idrico destinato agli ornamenti floreali che saranno irrigati grazie ad un sistema elettronico appositamente congegnato è stata la volta dell'installazione degli arredi urbani disegnati dall'Accademia di Belle Arti di Frosinone a seguito del concorso di idee lanciato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto di Palazzo Tiravanti. In particolare nella rotatoria di via Fedele Calvosa, già via Mezzacorsa è oggi possibile ammirare un'opera raffigurante una bilancia immagine non casuale vista la prossimità con il Tribunale Cittadino con due mondi di diverse dimensioni il più grande e il più piccolo si tengono in equilibrio sulla struttura realizzata, metafora della giustizia. Le operazioni previste anche sulle altre rotatorie della Montilepini secondo il progetto espresso dall'amministrazione Ottaviani hanno l'obiettivo non solo di dare un volto nuovo e rispettoso del decoro alle aree coinvolte ma sono finalizzate anche ad implementare la sicurezza di automobilisti e pedoni della nuova arteria stradale ubicata in quello che si può ormai ritenere il centro urbano.